Siamo Savona, farà il tifo per te per la unica Ligure in gara nell'atletica, insomma sarà una grande emozione? Sì, un'emozione fortissima anche perché è la mia prima convocazione, quindi sono onorata e super emozionata e il fatto di gareggiare in casa è un'emozione ancora più grande. Come ti sei preparata? Ho fatto tre allenamenti a settimana, impegnandomi il più possibile, oggi l'ultimo allenamento intenso prima della convocazione e quindi tutta la grinta che ho l'ho messa in questi ultimi allenamenti. Qual è la società che ti ha seguito? Polisportiva di Letantistica Quinto con l'allenatore Antonio Sollazzo che vorrei ringraziarlo di cuore perché mi ha sempre aiutato e mi ha sempre allenato con tanta dedizione. 400-800, dove ti senti più pronta? Nei 400. Quali sono le tue ambizioni per queste due gare? Dare il meglio di me e cercare di fare un tempo migliore possibile avvicinandomi anche a quello che ho fatto agli italiani. Insomma, poi come dicevamo prima, poter contare sul supporto dei tuoi amici che ti seguiranno, che raggiungeranno sapore in occasione del due gare sarà qualcosa di unico, nessun'altra partecipante lo avrà a sapore. Eh sì, perché avendo la fortuna di essere a casa, comunque la maggior parte di amici, comunque chi vuole, può venire a vedermi facilmente. facilmente.